Pizzolante, lei ha parlato di tre momenti, di tre infarti definiti della società occidentale come elementi scatenanti di quella che è l'ondata populista. Rispetto soprattutto alla questione del ceto medio e delle aspettative tradite dopo l'89 e alla creazione di lavoro, su quali basi può fondare una concentrazione repubblicana che si opponga ai populismi? Domanda complicata. O noi siamo in grado di capire le grandi sfide che abbiamo davanti e per esempio la sinistra anziché resistere rispetto alle grandi trasformazioni del mercato del lavoro, la flessibilità del mercato del lavoro, la necessità di cambiare radicalmente i contratti, la contrattazione, di avvicinare la contrattazione al cittadino e alle imprese perché soltanto attraverso la contrattazione io do risposta in termini di maggiori salario per poter ridare forza al ceto medio e di maggiore occupazione. La sinistra supera tutti i tabù storici che li ha visto resistere rispetto per esempio al cambio dell'articolo 18, appunto al cambio della contrattazione e quindi si pone il problema della produttività, della grande trasformazione oppure la sinistra soccombe ed è perdente per sempre. Il mercato del lavoro cambierà radicalmente ancora rispetto a come l'abbiamo visto cambiare in questi anni. Io citavo due studi del Dipartimento Lavoro del Governo americano. Uno studio dice che un ragazzo che va oggi al liceo farà nella sua vita un lavoro che ancora non è stato inventato. Come lo mettiamo dentro questo armamentario ideologico vecchio della sinistra? Non ci sta. E dall'altra parte un altro studio dice che un ragazzo che nasce oggi farà nella sua vita sette tipi di lavoro diverso. Come lo metti questo dentro l'armamentario ideologico della sinistra? In più c'è il tema, il grande tema della questione fiscale, cioè se noi da una parte perdiamo ricchezza, quindi le aziende perdono marginalità e dall'altra parte noi aumentiamo le tasse magari anche in maniera violenta, coercitiva, preventiva, è chiaro che noi perdiamo sia i lavoratori dipendenti che il lavoro autonomo e le piccole imprese che a questo punto diventano interessate al verbo populista. Lei ha citato il caso degli Stati Uniti. Al di là della narrativa un po' livo diane di comodo, uno dei grandi motori dell'economia statunitense che è tutto quello che ha a che fare con il digitale è il risultato di un grossissimo investimento pubblico che è avvenuto penso alla difesa a partire dagli anni 60 in poi e che poi è stato dato alle aziende che ne hanno fatto un tesoro commerciale. Come può l'Europa ricreare quell'alleanza fra guida politica, visione di lungo periodo politico, come si diceva oggi, e poi imprese? Allora, gli americani hanno fatto molti investimenti pubblici ma nello stesso tempo hanno dato anche molta libertà alle imprese, cioè gli investimenti vanno sommati, c'è l'investimento pubblico ma poi ci devono essere gli investimenti delle famiglie e delle imprese. Noi in Italia e in Europa ma soprattutto in Italia abbiamo fatto l'esatto contrario, cioè noi non abbiamo più fatto investimenti pubblici perché non c'erano i soldi ma abbiamo irrigidito le regole per le imprese e le abbiamo impedito di fare investimenti privati. Abbiamo soffocato le imprese e le famiglie. Le due cose vanno fatte insieme perché il lavoro e la crescita la possono fare soltanto le imprese, cioè o le imprese ritornano dentro la strategia di sviluppo e di crescita, se invece le imprese, come è successo spesso in Italia ed è successo anche a sinistra, soprattutto a sinistra, rappresentano l'idea della speculazione, degli speculatori che vanno in qualche modo ingessati, controllati e allora tu non avrai investimento privato ma nemmeno investimento pubblico. Cioè se la sinistra dice che bisogna aumentare gli investimenti pubblici io sono d'accordo, ma per aumentare gli investimenti pubblici devono entrare più risorse nelle casse dello Stato, ma se le imprese sono ingessate non possono portare più risorse nelle casse dello Stato. Un cortocircuito, un non senso politico è figlio di una logica ideologica e quindi la sinistra deve cambiare moltissimo. Detto questo però, il tema secondo me oggi con i populisti in Italia al 60%, il tema non è più sinistra o destra, il tema è riformisti populisti. Quindi, come dire, la sinistra ha fatto i suoi errori, ha avuto dei suoi ruoli storici, ma chi oggi si sente di sinistra deve stare dentro uno scenario di chi dà un contributo per organizzare la risposta riformista ai populisti.